Un progetto importante per l'edilizia, un progetto che è l'orgoglio del Comune di Maglialati, così l'assessore Fabrizio Mancini, l'assessore all'urbanistica, ha presentato i lavori avviati da poco di realizzazione di 80 appartamenti nella zona di Scorcelletti. Ecco perché è un progetto così importante del quale il Comune è orgoglioso. È importante perché prima di tutto nasce con una filosofia nuova, una filosofia all'avanguardia sotto il segno del risparmio a costo zero, con i meccanismi del risparmio energetico, con i meccanismi dell'utilizzo delle fonti energetiche alternative. Per cui avere una logizzazione e una filosofia nuova di realizzazione di questa nuova logizzazione per il Comune è un vanto, lo possiamo dire in maniera forte, proprio perché è uno dei primi progetti da realizzare proprio nella Regione Marche. Qualche caratteristica di questa lottizzazione in sintesi, qualche numero? La logizzazione si inserisce in un tessuto urbano abbastanza nuovo, di recente costruzione. Questa urbanizzazione costa circa 80 appartamenti, è una strada chiusa ad anello che possa poi dare tutto il comfort possibile per gli abitanti, munita di diversi parcheggi, parcheggi a disposizione per ogni singolo fabbricato. Un bello spazio verde con parametri urbanistici al di sopra delle soglie previste dalla normativa, per cui possiamo pensare, inserendo questa filosofia nuova di realizzazione di queste abitazioni, che sia un'area proprio di un comfort importante. Dunque un'area a servizio dei cittadini, un'area residenziale comunque bella, in cui siano rispettati l'ambiente e soprattutto l'ambiente perché è un aspetto fondamentale da salvaguardare. Per Vallesina TV è tutto.